Buongiorno a tutti, saluto tutti i relatori e le autorità presenti e grazie al Vice Ministro Laura Castelli e a Laura dell'invito, perché io credo che la presentazione anche di questo rapporto sia assolutamente fondamentale, fuori da ogni forma, ma senza dubbio con sostanza. Io in questi anni ho cercato dalla Presidenza della Camera di mettere al centro la problematica dei comuni, facendo anche delle iniziative una su tutte che si chiama proprio Comuni al centro, andando nei consigli comunali a parlare per cercare di far comprendere sempre di più l'importanza e soprattutto la centralità democratica che i comuni hanno. Sono d'accordo con quello che dice Laura Castelli che oggi non si può pensare in qualche modo di migliorare o ristrutturare un Paese se non si mettono al centro anche e soprattutto i comuni, che sono gli enti che danno i servizi di prossimità alle persone, dai servizi sociali al trasporto pubblico, dalle asili nido, che sono tutti quegli aspetti per cui possiamo dire che un cittadino vive bene nella propria città e se un cittadino può usufruire di servizi all'avanguardia e di servizi buoni per cui spostarsi, per cui poter portare i figli a scuola, per cui poter avere un centro culturale vicino casa, significa allo stesso tempo ricostituire quel rapporto tra i cittadini e le istituzioni e quindi noi dobbiamo riuscire a far sì che i comuni possano lavorare nel migliore dei modi e quindi bene che un Parlamento e un governo riescano a prendere in carico tutta una serie di situazioni che per troppo tempo sono state lasciate andare. Oggi quando si appronta una città, si appronta un comune, ci troviamo anche debiti che sono di 20 anni fa, situazioni pregresse e io credo che il grande investimento, oltre agli investimenti che lo Stato già sta facendo, deve essere assolutamente sui comuni, sulla formazione, sulle assunzioni, sulla capacità di progettazione, sull'analisi del bilancio e quindi la conseguenza salvaguardia di quel bilancio per salvaguardare gli interessi dei cittadini, norme ad hoc, io credo che il grande investimento progettuale, finanziario e culturale vada fatto sui comuni, perché poi i cittadini immediatamente si renderanno conto di un cambio di passo e di un risultato diverso nelle loro città. Il rapporto mette in luce e mostra i tanti problemi dei comuni italiani, tanti problemi sono nel sud Italia e quindi noi dobbiamo riuscire a far sì che anche i comuni del sud possano ripartire nel migliore dei modi, perché significa attraenare non solo la fiducia e l'economia italiana, ma significa ridare slancio a una parte che oggi del paese che può crescere in modo costante e che può addirittura far sì che si trascini anche tutto il resto del paese. Penso a città come Napoli, come Roma, città che possono essere trenanti per tutto il paese, quindi ben venga questo rapporto, ben venga negli anni il rapporto che fa vedere come cambia la situazione e ben vengano tutti gli impegni che sono atti a migliorare i bilanci e la vita e la centralità democratica dei comuni italiani. Quindi vi ringrazio e buon lavoro a tutti.